Ciao! Triplo Gusto vi accoglie in un ambiente confortevole e informale. La cortesia, disponibilità e professionalità di tutto il personale vi farà sentire a casa vostra. Nel nostro ristorante offre una cucina di alto livello, pizze con lievito magre, sfiziosi menù di carne e gustosa pasticceria. Tutto questo lo potete provare grazie a Sconton. Noi vi aspettiamo ad Acireale, il mio nazionale guardia, al numero 131. Amici, mi scontate, se mi volete la ferie di Cristo, mi rive a tutti. Grazie a tutti!